Seconda giornata in Serie D, ancora nessun derby tra le compagini della nostra regione. Tra le partite di cartello spicca sicuramente quello del Mancini-Traffano e Pineto. La formazione guidata da Andrea Mosconi è chiamata a riscattare il pareggio di Ardea contro la Nuova Florida. Possibili assenti gli infortunati Schiaroli, Brosio e Severini, tutti alle prese con problemi di natura muscolare. Granata che nelle ultime ore hanno ingaggiato l'attaccante ivoriano classe 1997 drole, i biancazzurri di Daniele Amaolo d'altro canto invece vogliono dare conferma alla vittoria più sofferta del previsto contro il Termoli. Senza Nonni che dovrà scontare l'ultimo turno di squalifica, la difesa sarà composta dal capitano della Quercia di Filippo Ececcacci. Sicuramente senza nulla togliere al Termoli sarà una partita molto importante e più complicata rispetto a Domenica perché comunque Fano è una squadra, è una piazza che in queste categorie c'entra ben poco. Altro match di spessore sarà di scena sul neutro di Agnone. Al Civitelle si sfideranno Bastese e Trastevere e Replay della semifinale playoff della passata stagione. Ancora fuori causa Mazzotti mentre Greselin punta ad una maglia da titolare con Favo e Maiorano che comunque partono favoriti. In porta Pitarresi, davanti a lui Capitano Altobelli, Romeo e Monte Bugnoli. Davanti ancora spazio a Calì e Di Nardo, tre migliori a Tolentino. Sulla sponda a Capitolina il pericolo numero uno invece si chiama Federico Alonzi, ex di turno e già in gol domenica scorsa. Una sfida dalle mille insidie ma gli aragonesi, seppur lontano da casa, non vorranno rallentare. A caccia di conferme anche il notaresco che va a far visita al vasto Girardi. I rosso-blu di De Patria dovranno fare a meno dell'infortunato Bartoli. Per lui rientro in campo previsto per settimana prossima. La vittoria contro il Matese ha dato un'iniezione di fiducia all'ambiente, società ancora attiva sul mercato in cerca di elementi per completare un organico che va pian piano amalgamandosi. Di fronte però un vasto Girardi arrabbiato e voglioso di riscattare il K.O. di Chieti. Per gli alto Molisani c'è anche un nuovo portiere, si tratta di Davide Piga, ex Campobasso. Il Goffredo Bianchelli di Senigallia sarà teatro di una partita interessante tra Vigor e Chieti. Entrambe le compagini hanno vinto a sorpresa le loro gare d'esordio e andranno così a caccia di conferme. Corrado Cotta sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 ma vanno monitorate ancora le condizioni del capitano Manfredo Petrantonio alle prese con un guaio muscolare. In avanti spazio ancora la coppia Riosa e Palmisano con Cesario pronto ad entrare al gare in corso. In nero verde anche un nuovo attaccante, si tratta del classe 97 Andrea Testi, che è chiamato ad un immediato riscatto in Lavezzano. I marsicani dopo la brutta prestazione del Riviera delle Palme contro il Porto d'Ascoli è pronto ad ospitare al De Marsi il Montegiorgio. Con l'arrivo di mister Scorsini il presidente Paris ha rivoluzionato completamente la rosa. Sono arrivati nelle ultime ore gli attaccanti Casolla, Exfano e Bittaie, in passato Gian Bianco Verde, oltre al terzino Francesco Vaccaro e il portiere Stefano Coco. Fischio d'inizio per le gare previsto per le ore 15, mentre Roma City-Porto d'Ascoli avrà inizio alle ore 15.30.